Che alcuni... Henry, forse ho capito come fermare quel coso! Ti ascolto! Lassù, la vasca! È il mio! È il mio! L'ho distretto, va lassù! Tira! Spasso! Ora saliamo un supercriminale! Supercriminale è pentito! Ma ha comunque cercato di ucciderti in che volta? Sta provando a cambiare! Voglio aiutare! Scoraggio! Dobbiamo colpirli forte e per privi! Eccoci, ci siamo! Non apprezzo l'entusiasmo, ma in genere preferisco giocare d'astuzia! Qual è il problema? No, la grande! Perché non va in malora? Mi sono andato! Mi ruderò! Tutto ok con queste fiamme? A dire il vero sì! Non sto nemmeno sudando! Granata! Allora, ritorno! Che diavolo c'è? Il verano degli scorpio è un brutto information! no 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 All'Antonio 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 Calmo, affrontate uno alla volta Sì Uno alla volta Grazie bro